ragazzi non gliela passate perché sennò fai in baghe braccio in terra e gambe stesse braccio in terra quello va bene braccio in terra è un po' di scelta e la parte non succhiate, non la fara scelta l'altra parte non hai solito non hai solito non usa Grazie. 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 Questa è la mia. Eh, la voce è la mia. Grazie. 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 E' un'altra parte. Grazie. 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 Grazie.